Di vieto di pesca, beveraggio e bestiame, utilizzo a scopo irriguo delle acque del fiume Aterno, nell'intero tratto ricadente nel territorio del comune di Raiano, a seguito di campionamento da parte dell'Istituto Zoo Profilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise. L'ordinanza numero 34 è stata firmata dal sindaco Marco Moca, in seguito ai rilievi dei campioni d'acqua. L'ARTA, acquisendo i rilievi eseguiti dall'Istituto Zoo Profilattico, ha comunicato al comune che nel tratto ricadente nell'ambito del territorio comunale è stata rilevata la positività alla salmonella. Da qui l'adozione del provvedimento da parte del primo cittadino, che vieta il prelievo e l'utilizzo irriguo delle acque del fiume Aterno, nell'intero territorio comunale di Raiano, ma sono vietate anche la pesca e l'abbeveraggio del bestiame domestico nelle zone circostanti. Solo lo scorso mese di febbraio i sindaci di Fossa, Sant'Eusanio Forconese, Villa Sant'Angelo, Sant'Emetrio Nemestini, Barisciano, Fagnano Alto, Fontecchio, avevano inoltrato una richiesta congiunta al prefetto dell'Aquila, Giuseppe Linardi, per chiedere la convocazione di un tavolo urgente, al fine di trovare una soluzione al problema della salmonella presente nelle acque del fiume Aterno.